La domanda e l'offerta di lavoro in provincia di Arezzo passa dal web. Dal 1 gennaio è attivo IdolWeb, il nuovo sito internet della provincia di Arezzo, una sorta di centro per l'impiego ma in internet. I cittadini possono effettuare la ricerca delle offerte consultando gli annunci pubblicati nella banca dati e usufruendo della ricerca avanzata creata appositamente per visualizzare le offerte di lavoro. Si consente così agli utenti di poter personalizzare la propria ricerca compilando una scheda di autocandidatura in cui è riportato un utile campo note nel quale è possibile inserire ulteriori dettagli ritenuti importanti ai fini della propria domanda. Le aziende avranno dall'altro canto la possibilità di inserire le offerte di lavoro in modo da dare agli utenti le informazioni indispensabili. L'intento è quello di offrire il massimo della trasparenza anche per quanto riguarda le tipologie contrattuali e le fasi di preselezione che possono essere gestite contando sul supporto del servizio del centro per l'impiego di riferimento. L'idea, sottolinea l'assessore Carla Borghesi, è quella di offrire un servizio di qualità che non faccia perdere tempo a chi è alla ricerca di un'occupazione, che migliori il proprio presente e che possa aiutare a costruire un avvenire più roseo.